Amici delle spettatori ci siamo e venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo diverso rispetto alle altre puntate. Partiremo da una nuova realtà bellissima, davvero innovativa, nata sul nostro territorio, in agro di Castellaneta, provincia di Taranto. Mi riferisco allo stabilimento Masseria Frutti Rossi, una realtà agricola e agroindustriale davvero innovativa, per certi versi rivoluzionaria, visto che punta su nuovi prodotti, penso al melograno, penso all'avvocadro, potremmo dire altri frutti che finora non avevano avuto la giusta rilevanza, soprattutto con riferimento alle proprietà inerenti alla salute, ai benefici che apportano nell'ambito della salute di ciascuno di noi. Quindi una realtà diversa, un modo di far crescere il territorio, essendo però fermamente legati alla terra, a madre terra. E' questa la sfida importante in una realtà purtroppo, quella di Taranto, brutalmente industrializzata. E allora eccoci qui, in quel di Castellaneta, per l'inaugurazione e per farvi vedere questa nuova realtà, attraverso immagini, attraverso la struttura di questa industria agroalimentare, con il contributo di varie interviste. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Riva, Michele è passato con noi a gestire le siderurgie nostre in Belgio, poi è andato anche in Cina a fare l'assistenza tecnica ai cinesi e poi ha detto sono stanco, ho finito e allora ha detto cosa fai? Ho coltivato 10 ettere di melograno, però bisognerebbe fare le cose molto più grandi e di lì è nata l'idea e l'idea è venuta prima di piantare il melograno e poi di verticalizzarlo, cioè di fare la trasformazione non solo del melograno, del goji e penso che quello che abbiamo fatto qui oggi può anche essere nel futuro d'aiuto alla piccola agricoltura locale per aiutarla a trasformare il prodotto e a commercializzarlo meglio. Mi incuriosiscono questi prodotti completamente diversi, prodotti naturali, frutti completamente diversi. Allora, il nostro motto sarà aiutiamo a creare centenari, un elisir di lunga vita. Un elisir di lunga vita. Ovviamente nell'industria, nel business si cerca di fare novità, questa è una novità abbastanza per l'Italia, anche se adesso si sta diffondendo e in parallelo a una maggiore sensibilità alla salute. Io da ragazzo mangiavo tanto salame, adesso non lo mangio più perché dicono che fa male e mi sono convinto a non mangiarlo più. Mentre invece i prodotti che noi facciamo, adesso pianteremo anche dell'avocado, poi pensiamo di fare dell'avocado, fare anche il guai a mole, fare prodotti un po' diversi e verticalizzarli e commercializzarli. Dopo aver intervistato Bruno Bolfo, Michele De Lisi, altro cuore pulsante di questo progetto, un atto di amore verso Madre Terra. Sì, è senza dubbio così, è un atto di amore che nasce dall'infanzia, ho avuto questa passione, quindi adesso che ho completato il mio iter professionale in un altro campo, nel campo della siderurgia, non ho perso un minuto di tempo dedicando le mie risorse, le mie capacità al mondo agricolo, con un'idea che abbiamo subito condiviso con il dottor Bolfo, che è quella di produrre frutti salutistici che fanno bene alla salute e di mantenerne le sue caratteristiche durante la trasformazione, dotandoci di tecnologie molto avanzate per questo scopo. Dario De Lisi, responsabile marketing e vendite masseria Frutti Rossi, una realtà innovativa che permette al territorio di crescere. Avete puntato su prodotti innovativi, diversi e questa la sfida rispetto magari a scommesse a investimenti che sarebbero ovvi, ripetitivi in determinati settori. L'alea del rischio, certamente, ma la consapevolezza di percorrere percorsi nuovi. Sì, essenzialmente parliamo qui di innovazione. Intanto qualche anno fa, quando è nato il progetto, abbiamo colto questa tendenza che probabilmente sta prendendo sempre più piede e quindi anche una consapevolezza da parte del consumatore nel porre un'attenzione particolare in ciò che acquista, in ciò che consuma. Quindi una dieta corretta, uno stile di vita corretto e questo lo si può fare chiaramente grazie a una corretta alimentazione. Attraverso le nostre produzioni intendiamo dare una mano in questa direzione, quindi producendo i cosiddetti superfrutti, in particolare melagrana, dalle incredibili qualità organolettiche, un frutto salutare, tra i frutti salutari per eccellenza. Cerchiamo attraverso questo stabilimento di renderlo fruibile ai consumatori. Questo sia attraverso una selezione, quindi il confezionamento di frutto fresco, ma anche di frutto trasformato, quindi essenzialmente in succhi, ma anche in arelli sgranati, in vaschetta, pronti al consumo direttamente nel banco fresco dei supermercati. attraverso queste soluzioni, chiaramente l'intenzione è quella di allargare la portata di questi frutti a tutti, insomma un gruppo sempre crescente di consumatori, attraverso produzioni comunque dall'elevato standard qualitativo, sia in campo da un punto di vista agronomico, sia nello stabilimento per quanto riguarda le tecnologie di trasformazione. Una sfida imprenditoriale che parte dalla natura, questo è importante, il rispetto della natura, un territorio quello ionico che ha le sue vicissitudini dal punto di vista dell'industria pesante, altamente impattante, un territorio che vuole crescere sfruttando la risorsa natura, magari sfruttandola, appunto impiegandola attraverso prodotti diversi, ma è importante, è positivo, è incomiabile questo legame stretto con quella che è la risorsa terra. Sì, assolutamente, c'è questo amore viscerale per la terra, quindi per la natura e per il rispetto della natura stessa, perché come sappiamo insomma la natura dà quello che riceve sostanzialmente, e quindi trattarla bene, quindi rispettandola, significa poter raccogliere anche i frutti generosi della terra nel modo migliore possibile. Con il nostro progetto abbiamo inteso un po' concretizzare questa tanto auspicata diversificazione per quanto riguarda le produzioni all'interno del nostro territorio attraverso questa giornata che segna un po' il via a queste produzioni, speriamo appunto di intraprendere un percorso che vada in quella direzione e che possa dare le giuste soddisfazioni. Grazie a tutti. Gennaro Massiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti, beh Coldiretti sarà sicuramente entusiasta, soddisfatta di questa iniziativa, puntare su un prodotto naturale, su un frutto alternativo in un territorio, quello tarantino, ai noi, altamente industrializzato e deturpato dalla grande industria. Ma io sono orgoglioso di questo modello, modello legato al territorio ma soprattutto allo sviluppo di un'agricoltura che ha saputo negli anni cambiare la percezione nella società e ha saputo dare una traiettoria di futuro per tanti giovani e soprattutto in modo nuovo, con la capacità di non più solo produrre dei radiolimitari ma sapere andare direttamente al mercato e questa è un'esperienza che ci porta direttamente al rapporto col mercato ed è un'esperienza che darà sicuramente soddisfazione agli imprenditori che hanno avuto questa intuizione ma a questo straordinario territorio. Parlando di frutti potremmo definire questo progetto una primizia, tra virgolette, in Puglia? Assolutamente sì, realizzare una sfida del genere non solo è una primizia ma ha bisogno anche di tanto coraggio, questa è un'impresa ed è un imprenditore che ha dimostrato tanto coraggio e soprattutto anche tanta lucidità e tanta visione. L'Avvocato Giovanni Gugliotti, Sindaco di Castellaneta, beh gli onori di casa, nella sua terra una realtà davvero innovativa, un modo di produrre diverso, innovativo, tecnologicamente avanzato, un'agricoltura che si modernizza. Assolutamente sì, un'iniziativa importantissima, questo è un fiore all'occhiello di tutto il nostro territorio perché credo che aziende di questo tipo, di questa portata ce ne siano davvero poche e soprattutto in un momento difficile come questo credo che sia un segnale assolutamente positivo, è il nostro territorio che si rilancia, che riparte e credo che veramente siamo ad una svolta, io sono fortemente convinto che potremo fare quel salto di qualità che grazie ad iniziative come queste ormai è a portata di mano. Per la crescita del territorio è assolutamente indispensabile l'azione sinergica tra privati ed istituzioni, comune e regione nella fattispecie? Assolutamente, io da un lato devo ringraziare innanzitutto la famiglia Delisi e i loro soci per aver voluto fortemente questo investimento qui sul nostro territorio, è ovvio che noi come amministrazione comunale ma anche la regione al nostro fianco, altro non poteva fare che supportare questa iniziativa, importante e lodevole iniziativa, quindi siamo qui all'esito di questa proficua collaborazione tra istituzioni e privato, siamo qui oggi ad inaugurare questo importantissimo impianto produttivo. Siamo con l'assessore Leonardo De Gioia, assessore all'agricoltura della regione Puglia, la vicinanza della regione rispetto a questa realtà? Bisogna dare merito anzitutto agli imprenditori e alle aziende agricole che concorrono con la loro esperienza a individuare queste fonti di produzione che sono perfettamente in linea con quella che è la vocazione della nostra regione stessa e ovviamente l'ente amministrato dal Presidente Emiliano non può che essere vicino a queste iniziative e è palesemente evidente a tutti che la qualità dell'iniziativa è data anche dalla stretta coerenza con quello che è il sistema produttivo locale, quindi è un modo per terminare una filiera e per far sì che gran parte del valore economico rimanga in un territorio che diversamente dovrebbe semmai inseguire le dinamiche della grande distribuzione o di aziende che vengono da fuori. Dottore Emanuele Di Palma, direttore generale della BCC di San Marzano di San Giuseppe, la BCC sempre vicina alle realtà che promuovono e favoriscono la crescita del territorio, sicuramente frutti rossi è una realtà che determina una rivoluzione a livello proprio produttivo e a livello di economia legata alla terra, alla natura. Un connubio meraviglioso tra l'agricoltura, l'agricoltura tradizionale, la melograna, un frutto tipico delle nostre zone meridionali con l'industria, un'industria altamente tecnologica come quella che vediamo qui questa sera, un'industria pulita, un'industria che non inquina, che unita con la grande tradizione dell'agricoltura meridionale darà dei grandissimi risultati, risultati scontati perché il prodotto è un prodotto di qualità, viene trattato in maniera tecnologicamente avanzata e finirà rapidamente sui mercati con grande successo, ma questo sarà soltanto il primo passo perché l'ingegnere dell'ISI ha grandi progetti, ha grandi programmi e sicuramente si potrà andare oltre la melograna con la conservazione e la trasformazione di tanti altri prodotti che la nostra campagna produce. Bene, termina qui la parte di Polifemo. relativa alla inaugurazione e alla conoscenza della masseria Frutti Rossi, una realtà altamente innovativa, una perla dell'agroindustria tarantina, pugliese e del mezzogiorno d'Italia, una ricchezza, un qualcosa che davvero fa crescere il nostro territorio alternativamente alla monocultura dell'acciaio grazie al cielo. Ora ce ne andiamo in pubblicità al rientro, altre parti di Polifemo, ci saranno appunto le rubriche dello sportello del cittadino, la rubrica di Senza Bavaglio, ancora Miss Progress in quel di Leporano, insomma tanto altro ancora. Per ora la sosta pubblicitaria.